Riavvio dei lavori per il completamento del primo stralcio della Fondovalle Calore. Questa mattina si è tenuta a Castelcivita la cerimonia alla quale hanno preso parte il governatore Vincenzo De Luca, il presidente della provincia di Salerno Giuseppe Canfora e il presidente della comunità montana degli Alburni Donato Cervino. La strada alla cui realizzazione inizialmente fu decisa con l'obiettivo di collegare il sistema di Vallo della Lucania e Cilento agli agglomerati industriali della Valle del Sele, nonché i vari comuni del versante occidentale, ha alle spalle una storia di oltre 15 anni fatta di contenziosi ricorsi e sentenze. Tutto ciò fino a quando la regione Campania, con una delibera del 2016, dichiarava che la Fondovalle Calore riveste carattere strategico per la provincia di Salerno e per la stessa regione e la sua interruzione comporterebbe ai territori interessati e alla collettività il duplice danno della mancata fruizione dell'opera e della vanificazione degli investimenti pubblici oggi realizzati. Nel mese di aprile dello scorso anno la provincia di Salerno revocò il provvedimento di revoca dei fondi emesso nel settembre 2015. Successivamente furono accreditati 4 milioni di euro per la strada, disponendo tra l'altro l'accreditamento di altri 5 milioni di euro per i lavori compiuti fino ad allora. Passo in avanti dunque questa mattina per un'opera rimasta troppo tempo incompiuta. I lavori previsti sono finalizzati ad ultimare il lotto di 5 chilometri compreso tra Aquara e le grotte di Castercivita.